autorità di bacino la quale dei laghi di seo endine moro un milione e 616 mila euro tanto montano gli investimenti sul territorio per le opere portate a termine nel 2020 rimborsi per vaccini e secondo tampone il commento del consigliere regionale del partito democratico jacopo scandella rogno il comune bergamasco tra i più ricicloni della provincia con il 90 virgola 23 per cento di differenziata al primo posto della classifica dei comuni invece della valcamonica buonasera e ben ritrovati con il telegiornale di antena 2 ha pagato con una carta di credito rubata e poco dopo sono arrivati i carabinieri è scattato quindi l'arresto per il reato di utilizzo illecito di mezzi di pagamento elettronici in manette una donna di 44 anni italiana già nota alle forze dell'ordine è successo ieri sera mercoledì 2 dicembre a costa volpino i carabinieri sono stati chiamati da una dipendente di un centro estetico che segnalava il tentativo di pagamento con una carta di credito provento di furto la pattuglia della stazione di costa volpino è quindi intervenuta immediatamente sul posto per arrestare la donna dagli accertamenti svolti è emerso che l'arrestata per pagare un servizio di tatuaggio di sopracciglia aveva fornito una carta di credito rubata a una donna di pisogne quest'ultima poche ore prima aveva denunciato il furto ai carabinieri l'arrestata è stata apposta agli arresti domiciliari a disposizione dell'autorità giudiziaria in consiglio regionale è stata approvata una mozione relativa al rimborso dei costi sostenuti dalle persone che hanno effettuato privatamente il vaccino antinfluenzale sentiamo il consigliere regionale del partito democratico jacopo scandella doppia seduta di consiglio regionale negli ultimi giorni tra le misure approvate anche una mozione presentata dal partito democratico che riguarda i vaccini antinfluenzali che cosa avete chiesto si la campagna vaccinale antinfluenzale quest'anno ha avuto una serie di problemi la giunta soprattutto nei mesi di maggio di giugno ha commesso una serie di errori nell'acquisto delle dosi necessarie per coprire le fasce considerate a rischio e che il vaccino avrebbero dovuto averlo gratuitamente nelle ultime settimane ma che spesso purtroppo si sono sentite rispondere dal proprio medico di base che i vaccini non erano ancora arrivati negli ultimi giorni la regione è a caccia ancora di 700 mila vaccini che mancano e questo purtroppo non è stato un esempio di buona amministrazione la lombardia se c'era un anno nel quale non bisognava sbagliare era proprio questo invece si è arrivati con forte ritardo ad acquistare queste 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 dosi la mozione approvata appunto in consiglio chiede che le persone che rientrano in quelle categorie considerate rischio e che sono riuscite ad effettuare il vaccino solo privatamente pagando però 50 60 70 euro da quelle strutture private che invece lo avevano a disposizione vengano rimborsate e quindi che i ritardi diciamo accumulati dalla giunta non si scarichino così sulle persone a maggior ragione quelle più fragili che appunto dovevano fare il vaccino a maggior ragione in questo periodo per evitare la sovrapposizione dei sintomi tra covid e non covid nella mozione non è stato invece approvato un altro impegno che avevamo chiesto alla alla giunta che riguardava il rimborso del secondo tampone effettuato privatamente soprattutto nelle province in cui la pressione è stata più alta spesso il sistema pubblico aveva tempi molto lunghi per effettuare il tampone cosiddetto a rientro e quindi tante persone si sono rivolte privatamente questo però non è stato appunto questo rimborso non è stato accettato è stato approvato anche un progetto di legge con misure a sostegno delle rsa le residenze sanitarie assistenziali che cosa ne pensate sì le rsa vanno sostenute e ci sono almeno tre campi di intervento nel quale è indispensabile un supporto anche da parte della regione in parte lo si trova dentro questo progetto di legge approvato in parte ancora no la priorità evidentemente a maggior ragione dopo quello che è successo nel mese di marzo nella fase più acuta dell'emergenza è garantire la massima sicurezza possibile agli ospiti e agli operatori e in questo senso la richiesta era quella di avere tamponi settimanali per ospiti e operatori a carico della regione questa non è stata accolta e ed è un aspetto sul quale le rsa sono sono state costrette negli scorsi mesi a sopperire diciamo di tasca propria l'altro aspetto riguarda le visite perché il blocco delle visite ai parenti è un aspetto anche qui che con grande cautela e nella massima sicurezza possibile deve però essere affrontato attraverso tamponi rapidi attraverso progetti come quello delle stanze degli abbracci si deve provare a fare il possibile perché appunto le persone siano in condizione di vedere i propri cari che spesso sono distanti veramente da tanti tanti mesi il terzo aspetto riguarda invece la sostenibilità economica sono diciamo state confermate anche dentro questo progetto di legge le quote di contribuzione regionale cioè la quota di contributo regionale che le strutture prendono ma quello che è successo negli ultimi mesi ha fatto evidentemente calare il numero degli ospiti e quindi la compartecipazione privata le rette che pagano le famiglie e questo ha comportato un grosso problema di sostenibilità economica per appunto tante strutture su questo ancora non si incide all'interno del progetto di legge viene confermato il 100 per cento della quota regionale ma non una compensazione per la quota privata che è venuta meno questo rischia di mettere appunto a rischio una bella fetta di strutture nella nostra provincia e un sistema di cura e assistenza diffuso nel territorio a cui noi non possiamo permetterci di rinunciare per cui credo e spero che ci possa essere un nuovo intervento in tempi brevi che appunto garantisca questa sostenibilità un milione e 616 mila euro tanto ammontano gli investimenti sul territorio per le opere portate a termine nelle 2020 dall'autorità di bacino la quale dei laghi di iseo endine e moro sentiamo il presidente alessio rinaldi l'anno 2020 è stato un anno davvero difficile per tutti a causa dell'emergenza epidemiologica che ancora è tuttora in corso autorità di bacino ha dovuto affrontare direi questa importante situazione e direi che ancora una volta è riuscita grazie all'ottima collaborazione con regione lombardia a sopperire ovviamente le difficoltà anche economiche che sono state direi sopperite grazie a contributi straordinari da parte di regione lombardia comunque autorità di bacino è riuscita a concludere tutte le opere che erano state programmate parliamo di un milione e 600 mila euro circa che sono le opere programmate 50 per cento comuni 50 per cento regione lombardia e tante opere ovviamente di sistemazione portuale e di aree portuali e extra portuali e inoltre è riuscita a portare a termine anche tutti gli accordi ricordiamo gli importanti che da diversi anni vengono svolti di servizi sul territorio mi riferisco alla raccolta delle alghe dei tronchi quest'anno davvero ci ha messo molto in difficoltà soprattutto i temporali di fine agosto hanno riversato davvero una quantitativa enorme di tronchi e quindi mpl è stata impegnata la nostra società partecipata davvero nella raccolta doppia sia delle alghe verso il basso lago e sia dei tronchi sull'alto lago e poi il protocollo sicurezza che anche quest'anno ha dato degli ottimi risultati e il protocollo su il contenimento degli sversamenti di idrocarburi quindi direi che anche quest'anno autorità di vaccino è riuscita davvero a essere davvero un ente virtuoso sia nella realizzazione di opere sul proprio territorio edemaniale ma soprattutto con servizi importanti per il territorio. Gli obiettivi del 2020 sono gli obiettivi direi che autorità di vaccino da sempre porta avanti oltre naturalmente a mettere in campo i 3 milioni e 600 mila euro di opere richieste dai comuni e naturalmente opere che riguardano le strutture portuali extra portuali tutte quelle convenzioni che naturalmente ricordavo prima sono da anni messe in campo come lo dicevo prima il contenimento delle alghe e la raccolta dei tronchi che si riversano sul nostro specchio di lago verranno comunque continuate. Sulla raccolta delle alghe sempre a valore del piano Marshall vorremmo chiedere a Regione Lombardia le risorse per attuare quel piano e quel progetto che è stato concluso quest'anno predisposto da Graia per il contenimento della alga valisnelia che durante il periodo più caldo provoca delle miasmi e provoca un distaccamento dei filamenti creando dei problemi nel basso lago. Inoltre da ormai autorità di vaccino viene sempre individuata sempre di più dal territorio come lente catalizzatore per altri temi, temi in particolare ambientali. Quest'anno come Presidente di autorità di vaccino vorrei mettere sul piatto e sedere a un tavolo tutti gli enti comunali e sovracomunali per vedere se c'è la possibilità di istituire un contratto di lago per quanto riguarda le problematiche non solo ambientali ma direi territoriali del nostro lago e anche un contratto di fiume per quanto riguarda ovviamente l'asse dell'olio che riguarda particolare il territorio della Valle Camonica che come dicevo durante i fortunali che sempre più spesso e sempre con forte intensità si riversano sul nostro territorio e riversano una quantitativa enorme di tronchi. Quindi direi che l'obiettivo è quello davvero di essere l'ente catalizzatore di tutte le problematiche direi ambientali del nostro territorio. È prevista domani venerdì 4 dicembre la demolizione della ciminiera all'interno del complesso ex domade a Vertova. Intorno a mezzogiorno verranno fatte esplodere cariche collocate all'interno della struttura, cariche collocate da una ditta specializzata. L'abbattimento è previsto nell'ambito dei lavori per la bonifica e il recupero del complesso iniziati nelle scorse settimane. L'ex domade si trova nella zona della stazione. Si tratta di un'area che in passato ospitava la produzione di calce. Una volta terminata la bonifica dovrebbero essere effettuati interventi di riqualificazione. In previsione dell'intervento di demolizione della ciminiera il sindaco di Vertova Orlando Gualdi ha firmato un'ordinanza che prevede tra le 11.45 e le 14 la chiusura di via Canale dal Civico 70 all'inizio di via Rodigari e di via Giardini in prossimità del ponte sul canale oltre ad altri provvedimenti che riguardano abitazioni e attività vicine. Segnale di ripresa nell'ultimo rapporto della provincia di Bergamo per quanto concerne il mercato del lavoro. Sentiamo Nicola Androletti. Fa segnare una ripresa il mercato del lavoro in Bergamasca, lo dice il consueto rapporto della provincia aggiornato al mese di ottobre. Le assunzioni di dipendenti ad ottobre tornano a crescere su base annua dopo sette mesi consecutivi in flessione. Le cessazioni sono poco al di sotto dei livelli di un anno fa. Il bilancio del mese è positivo e superiore al corrispondente valore del 2019, ma come già nel mese scorso l'incremento delle assunzioni è in larga misura dovuto al picco stagionale degli incarichi a tempo determinato nella scuola, quest'anno notevolmente amplificato rispetto al passato dalle supplenze Covid, introdotte con risorse finanziarie specifiche per fronteggiare l'emergenza coronavirus e il suo impatto sulla didattica. La ripresa delle assunzioni è trainata dai contratti a tempo determinato e in somministrazione e a livello di settori dal commercio e servizi, istruzione inclusa e dall'agricoltura. Prima lieve battuta d'arresto per le assunzioni nell'edilizia, calo in relativo miglioramento sui mesi precedenti nell'industria. Lo scenario degli ultimi due mesi del 2020, con le restrizioni di attività e mobilità adottate a novembre e tuttora vigenti, resta tuttavia critico. L'Assemblea dei Soci di Uniacque riunitesi online nella mattinata di sabato 28 novembre ha deliberato l'approvazione a larga maggioranza del bilancio 2019. Domani, venerdì 4 dicembre, alle ore 16, si svolgerà una nuova Assemblea dei Soci. All'ordine del giorno il rinnovo delle cariche aziendali, anche in questo caso sarà adottata la modalità online. Sentiamo il Presidente Paolo Franco, tracciare un bilancio della sua attività. È un bel bilancio quello di Uniacque, questa società completamente pubblica che deve gestire questo bene prezioso che è l'acqua e rispettare l'ambiente. Sono 103 milioni di euro in netto aumento rispetto ai 94 dello scorso anno, con un utile di 6,5 milioni che verranno utilizzati per erogare servizi ai comuni. Ci sono oltre 450 uomini e donne che lavorano tutti i giorni con passione per ottenere questi risultati. Dobbiamo parlare molto chiaramente di un risultato importante, gli investimenti. Quest'anno abbiamo toccato i 35 milioni di euro, sempre in trend positivo rispetto già dal 2014, dove sul territorio abbiamo investito, fatto nuove opere, quindi dato lavoro alle aziende anche del territorio per oltre 140 milioni di euro. Un patrimonio netto che anche quest'anno è passato da 70 a 77 milioni e che dà la solidità dell'azienda, anche e soprattutto in virtù dei 36 milioni da cui si partiva nel 2014. Oggi abbiamo anche un capitale sociale che da 2 milioni va a 36 milioni, quindi dei numeri positivi che danno l'immagine di quanto è stato importante farlo tutti insieme. Un altro valore aggiunto che ritengo indispensabile sottolineare gli oltre 200 mila nuovi abitanti, clienti che andiamo a servire, che partendo da 2014, comune per comune, hanno deciso di aderire ai servizi di Uniacque e l'auspicio è che ne aumentino ancora di più, perché siamo a circa un milione di abitanti serviti, siamo tra le prime dieci società italiane e anche perché in questi sei anni un numero va ricordato su tutti. Dal 2014 al 2019 sono stati restituiti al territorio, quindi a tutti i comuni, 320 milioni di euro. Gli investimenti che ho detto prima, oltre alla restituzione dei mutui che aspettavano già da prima del 2014 i nostri comuni, ma soprattutto anche la restituzione della 335. Investimenti, stare insieme, rispettare l'ambiente sono le tre parole chiave di Uniacque e io l'auspicio che migliore che possa dare è che questi numeri continuino ad aumentare, che il servizio possa solo che sempre più migliorare. L'attività di progettazione di Promoserio e le capacità di creare sinergie tra i diversi attori del territorio ha ottenuto un nuovo e importante riconoscimento. Il premio GoSlow 2020, giunto all'ottava edizione, è punto fermo nel fare conoscere i progetti e studi di infattibilità in Italia per la valorizzazione del paesaggio culturale. Premio che ha visto classificato al terzo posto il progetto e-bike experience in Val Seriana e Val di Scalve per la sua capacità di diffondere la cultura della mobilità dolce. Il premio è rivolto a comuni, unione dei comuni, regioni, province, parchi, aree protette, enti di governance, itinerari, rotte, cammini, ciclovie, studi di architettura e urbanistica, ma anche fondazioni e comitati che si distinguono per visione e qualità progettuali. E tra i comuni in cima alla classifica dei più ricicloni nella Bergamasca c'è Rogno, paese con la percentuale più alta invece se si considerano i paesi della Val Camonica con il 90,23%. Sentiamo il sindaco Cristian Molinari. Un ottimo risultato che premia sicuramente i nostri cittadini e le nostre imprese e un bel riconoscimento perché è un riconoscimento che premia la nostra amministrazione, ma sicuramente anche le amministrazioni precedenti, anche perché a questi risultati così alti non si arriva per caso. Serve un processo che richiede degli anni perché richiede appunto anche un percorso anche culturale nei confronti dell'ambiente e appunto della raccolta differenziata. Rogno ha iniziato nel 2008 con l'amministrazione Surini ad abbandonare i cassonetti per iniziare una raccolta differenziata. Questo è stato il primo passo importante, il primo cambio di abitudini. Nei dieci anni dell'amministrazione Colossi si è sviluppato sempre più questo procedimento, si è passati dalla tariffa normale dei rifiuti differenziata alla tariffa puntuale che premia chi meglio differenzia appunto i rifiuti e siamo arrivati appunto alla soglia del 90%. Adesso sono ormai tre anni e punto più punto meno siamo abbondantemente sopra il 90% con un altro dato molto importante che è la produzione pro capita di rifiuto secco indifferenziato. Rogno ha 45 kg ad abitante anno. È un dato eccezionale, calcolate che vengono premiati enormemente i comuni che riescono a scendere sotto i 75 kg e noi siamo a 45 kg perciò ecco il 90,2 di raccolta differenziata più i 45 kg pro capita di secco sono due valori che ci pongono veramente ai primi posti in Italia. Il 90% è un dato veramente eccezionale, difficilmente si riesce a superare e andare oltre. Perciò per migliorare ulteriormente il servizio che diamo ai nostri cittadini la nostra amministrazione ha dato il via e sono partiti due mesi fa i lavori di una realizzazione di una nuova isola ecologica. Quella attuale è piccola e ha anche dei grossi problemi di sicurezza perciò il Comune di Rogno ha investito 400 mila euro che provengono 200 mila euro da Regione Lombardia, 175 dalla società Valcavena Servizi e solo una minima parte dal bilancio comunale e sono partiti i lavori a ottobre e in primavera avremo realizzata la nostra nuova isola ecologica nella zona industriale che è un progetto bellissimo che permetterà a tutti i cittadini di conferire i loro rifiuti nella massima sicurezza in ampi spazi e tutto questo porterà ancora di più Rogno ad essere veramente un Comune virtuoso per quel che riguarda il rispetto dell'ambiente e della natura. E nei prossimi giorni ci sarà anche una presentazione? Sì, è un progetto a cui tengo molto anche perché è un documento storico incredibile, è un vero e proprio film sulla storia di Rogno. Attraverso le interviste dei sette sindaci ancora in vita di Rogno, i tre sacerdoti, il nostro storico Fabio Salvini, con la partecipazione anche di signor Mario Cretti, con la partecipazione anche di alcune attrici che si sono prestate appunto per questi 70 minuti che raccontano la storia di Rogno con fotografie, interviste e video raccolti anche dalle televisioni locali e Rogero Conti, che ha prestato servizio per il Comune di Rogno per alcuni mesi, ha realizzato questo film documentario che è veramente bello e lo presenteremo nel mese di dicembre a tutti i nostri cittadini. Perciò è un bellissimo progetto che vede la luce e racconterà, viscerà nel tempo, la storia che è stata nel nostro Comune, il presente e che sia un buon auspicio anche per gli obiettivi del futuro. Sulla pagina Facebook del CAI di Bergamo sono aperte le votazioni del logo per il 150esimo della prima ascesa in Presolana. In effetti questo importante compleanno dei 150 anni della prima salita alla Presolana d'opera della guida Carlo Medici, Antonio Curo e suo cugino Federico Frizioni è un compleanno importante che ha avviato diverse iniziative anche se purtroppo sono state condizionate da queste condizioni di emergenza sanitaria, soprattutto per le attività in ambiente. Ciò nonostante è proseguito l'invito a partecipare a questo concorso artistico per cercare, per realizzare un logo che possa rappresentare questo compleanno e soprattutto che possa essere un simbolo che possa essere utilizzato nelle iniziative che faremo in futuro e nei diversi materiali di comunicazione. Il concorso è stato lanciato il 3 ottobre, che era il giorno del 150esimo della prima salita. Si è chiuso l'altro giorno, il 30 novembre, e possiamo dire che ha visto partecipare ben 60 giovani artisti che hanno presentato la loro idea creativa, artistica, di questo anniversario e peraltro a Co. Questi loghi è stato deciso attraverso un lavoro fatto con tutta l'Unione Bergamasca del Club Alpino Italiano per cui sezione e sottosezione di far partecipare il pubblico per scegliere il logo che rappresenta il simbolo più condiviso e più significativo di queste bellissime proposte artistiche. Quindi da oggi fino al 9 dicembre sarà possibile scegliere, votare questi loghi sulle piattaforme Facebook Caibergamo oppure sulla piattaforma Instagram Save the Mountains e l'11 dicembre, la giornata internazionale delle montagne, proclameremo il vincitore di questo concorso, che peraltro prevede. Per il vincitore comunque è un premio in denaro di 500 euro e comunque a tutti i partecipanti il kit Save the Mountains che è composto dalla sacca, la maglietta, la spilla, la borraccia proprio come piccolo pensiero di ringraziamento. Ma già fin d'ora noi ringraziamo questi giovanissimi e giovani artisti perché hanno espresso bellissime idee di creatività e soprattutto abbiamo avuto una serie di proposte che partono da giovani da dieci anni fino a ben i trent'anni di quelli più maturi. Quindi anche questa partecipazione così ampia di numero ma di età rappresenta già un successo soprattutto perché assieme a questo aspetto obiettivo di trovare il logo simbolo della nostra regina dell'Europa e crediamo sia anche stata un'occasione per scoprire giovani appassionati alla regina ma soprattutto alla nostra montagna. Questo è un altro obiettivo importante che ci siamo posti e insieme conosceremo il giorno 11 dicembre il vincitore di questo bellissimo concorso. Ecco c'è la programmazione televisiva. Questa sera sul canale 88 alle 20 trasmetteremo preghiera in famiglia a cura dell'oratorio di Clusone. Alle 25 minuti il programma di motori paddock. Alle 22 e 5 minuti la rubrica cura delle gal, valle seriane, laghi bergamaschi, gal in forma. Alle 22 e 30 la seconda edizione del nostro telegiornale. Alle 23 e 15 la rubrica di sport invernali ski magazine. Alla mezzanotte e mezza la terza ed ultima edizione del nostro notiziario. Il telegiornale di Antena 2 torna in onda alle ore 21 e 30 ma sul canale al numero 218 del digitale terrestre. Sul canale sportivo al numero 628 alle 20 trasmetteremo Antena 2 Sport a cura di Lisa Cucchi mentre alle 21 la partita di calcio in replica ad Arfo Boario Atletico Castagnato. Al Manacco per domani venerdì 4 dicembre il sole sorge alle 7.40 e tramonta alle 16 e 42. Il culmine è alle ore 12 e 11 minuti, la durata del giorno di 9 ore e 2 minuti. La luna sorge alle 26 minuti e tramonta alle 11 e 58 di sabato. La fase lunare la luna è calante ed è visibile alle 72%. A chi si ricorda Santa Barbara. E con questo è tutto, vi ricordiamo che a seguire vi saranno la rubrica educhiamo e le previsioni del tempo. Grazie e buon proseguimento di serato a tutti. Grazie a tutti.